Buongiorno a tutti gli amici che ci stanno seguendo, questa è Ore 9, in studio io, me medesimo Roberto Giacchetti per la rassegna stampa di questa mattina che come potete immaginare è condizionata, se non addirittura monopolizzata, ma noi cercheremo di non monopolizzarla solo su questo, sul tema delle elezioni siciliane, peraltro non sui risultati delle elezioni siciliane, bensì sugli exit poll, quindi forse è la prima volta che tutto il circo politico si diletta a fare valutazioni, scenari, retroscena e compagnia bella sulla base di exit poll, neanche di dati reali. I dati reali sono iniziati ad essere scrutinati alle 8 di questa mattina, ovviamente se avremo qualche notizia in corso di giornata ve la daremo, ma presumiamo che qualunque notizia arrivi in questa mezz'ora sia una notizia del tutto irrilevante perché sappiamo che lo spoglio entrerà nel vivo probabilmente a partire dalla tanta mattinata ora di pranzo lì avremo dei risultati più certi. Quello che era scontato e certo, noi lo sappiamo benissimo del PD, è che la performance del centro-sinistra e in particolare dell'alleanza che appoggia Micari era difficilissima e quindi il risultato era abbastanza scontato, esattamente come scontati potevamo dare i titoli dei principali giornali, prendo per tutti la Repubblica che titola Sicilia, il crollo della sinistra e poi dopo Flop, PD e Bersaniani, il centro-destra avanza ma è testa a testa con i 5 Stelle, alleanza sotto il 50%, il titolo del messaggero per prenderne un altro è Sicilia centro-destra davanti a Movimento 5 Stelle, il giornale come titolo da Renzi, K.O. e Silvio Cè e questo non ce lo dimenticheremo mai, il fatto quotidiano destra un passo avanti ai 5 Stelle, Renzi affondato, Alfano estinto, questi sono i titoli tendenzialmente più marcati che abbiamo sui giornali, ovviamente adesso vedremo anche le considerazioni perché ci sono tutti i politologi che adesso si sbizzarriscono spiegando che questo non è un test locale ma è un test nazionale, che ci vuole l'autocritica, che non ci sta più molta speranza per il centro-sinistra, che Berlusconi è tornato il principale artefice della politica italiana, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono, vedremo anche le elezioni al municipio decimo di Roma, ad Ostia, dove possiamo dirla così, la cura Raggi sta avendo il suo primo effetto, il Movimento 5 Stelle perde 14% rispetto alle comunarie con le quali raggi, la Raggi ha sconfitto il sottoscritto, il 14% e possiamo dire che nonostante tutti i problemi che il PD ha avuto lì ad Ostia, ma ne faremo dopo queste considerazioni, comunque si attesta ad essere il secondo partito nel municipio di Ostia. Poi ovviamente ci sono tutte le questioni che sono rimaste appese dietro questo evento particolarmente importante che erano le elezioni siciliane, e cioè il tema delle pensioni, con l'età pensionabile, il dibattito che si è aperto su questo, la manovra che ovviamente è al Senato in discussione, il tema delle intercettazioni, vedremo tutti questi argomenti, che è stato varato dal Consiglio dei Ministri, vedremo che ci sta il tema tristissimo e drammatico dell'ennesima strage di immigrati che sono arrivata ieri una nara a Salerno con, non si capisce ancora bene se 26 o 27 immigrate defunte e a proposito di questo segnalo che c'è un bel reportage sulla questione dei rifugiati economici sulla stampa a pagina 13, ma lo vedremo. Poi ci sta il Paradise Papers con lo scandalo che è scoppiato e con tutte le notizie per chi è particolarmente interessato alla vicenda di chi si è portato i soldi all'estero, un po' da tutto il mondo, un po' in tutte le posizioni, poi c'è il tema, anche questo se qualcuno appassiona, della corruzione in Arabia Saudita, e sono tutte notizie di politica estera, però hanno un certo spazio sui giornali, così come la questione che riguarda Puydemont e i suoi ministri che si sono consegnati ieri in Belgio, ma sono stati rimessi in libertà, e poi Duccis in fundo per non farci mancare niente, anche tutta la vicenda di Tulliani che è, come sapete, è stato arrestato a Dubai ed è stato arrestato a Dubai perché in un capolavoro unico è riuscito a segnalare alla polizia la sua presenza, la polizia, come si dice, cuccato, ma questo poi rimane a margine della nostra segna stampa. Allora, cosa accade sui giornali? Ovviamente vi dicevo, il tema è tutto centrato in particolare sulla sconfitta della sinistra, io vi leggerò alcune cose e poi magari vi dirò anche la mia modestissima opinione su questo. Partirei dalla Repubblica, ci sono tutti i maggiori commentatori, in particolare in prima pagina su Repubblica c'è Folli che ha il suo editoriale intitolato il PD e il rischio dell'irrilevanza e tra l'altro nel proseguo del suo articolo dice Folli, anzi conclude il suo articolo dopo aver analizzato i dati, il passato, il presente, il futuro e dice Folli, il problema è che se si sommano i voti di centro-sinistra, compreso Alfano e quelli della sinistra, ossia Micari e Fava, si raggiunge a malapena il 25%, un quarto non dei siciliani e bensì di quella metà scarsa di elettori che si sono scomodati per andare al seggio. Un disastro che dovrebbe indurre il PD a rivedere parecchie delle sue strategie politiche e comunicative. È presto per dire se il segretario Renzi sarà chiamato a dare spiegazioni. In quale sede poi tutti gli organi di un PD ridotto al lumicino sono saldamente nelle mani del leader? Ora vorrei spiegare a Folli e a tutti quelli che fanno questa considerazione che questo non è che è accaduto con un colpo di Stato. Il fatto che ci sia una maggioranza dentro gli organi di direzione del Partito Democratico che appoggia Renzi e cosiddetti renziani, chiamateli come pare, nasce dal fatto che Renzi ha fatto delle primarie alla quale hanno partecipato quasi due milioni di persone e questi due milioni di persone nella stragrande maggioranza hanno appoggiato Renzi e quindi come accade in qualunque sede democratica di partito ci stanno delle maggioranze che poi nel momento in cui si devono prendere delle decisioni, non sono gli scontri, non sono le guerre, ma sono delle decisioni che in alcuni casi possono vedere anche opinioni diverse messe a confronto, chi ha vinto le primarie ha la maggioranza in direzione, è la cosa più normale del mondo, che Folli descrive come se ci trovassimo in una condizione bosceviche. E questo fa la differenza per adesso, si sa che la strada del nuovo inizio, qualunque cosa significhe, passa dal dibattito televisivo di domani sera fra Renzi e Di Maio, nella speranza che siano veri i sondaggi che collocano un ipotetico centrosinistra allargato con Pisapia, gli europeisti di Bonino e della Veto, del socialista Nencini eccetera, intorno al 31% su scala nazionale, competitivo con un centrodestra oltre il 33% e a distanza di sicurezza dal Movimento 5 Stelle al 26%, questo è il cuore della questione, la Sicilia ha dimostrato che la contesa è fra il centrodestra e il 5 Stelle con la sinistra tagliata fuori, se lo schema si replicasse nel resto dell'Italia il PD rischierebbe l'irrilevanza, Renzi deve rientrare in gioco nel più breve tempo possibile, fin da domani per ricollocarsi sulla scena da protagonista, per lui è l'ultima occasione ma è difficile che possa avere successo senza un'autentica autocratica, al di là di tutte le considerazioni, ieri mentre venivano dati gli exit poll che sono le interviste che vengono fatte all'uscita dei seggi e non dati reali che invece inizieranno questa mattina, comunque c'è stato un sondaggio, visto che si è fatto riferimento ai sondaggi in Sicilia, che per quanto riguarda il livello nazionale ovviamente è una condizione difficile con tutto quello che è accaduto, da ancora però il PD al 26,5%, il Movimento 5 Stelle al 28 e Forza Italia al 13,5% e altrettanto la Lega, cioè il PD con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi limiti ha il doppio dei voti della Forza Italia e della Lega, il tema semmai è come siano competitivi nel centro-destra nonostante le divisioni dando un'immagine di unità e arrivando quindi a quel 33 rotti di cui parla Folli e come purtroppo noi stiamo dando esattamente la fotografia inversa e vedremo anche oggi una simpatica intervista del mitico Gotor che ci spiega che Renzi è morto, il PD è morto, non si può fare nulla col PD e quindi diciamo ottenere il grande risultato già sperimentato in Sicilia, lo vedremo anche con i dati reali che ci si può come dire spingere a tutto anche ad essere totalmente rilevanti e rilevanti esclusivamente per rompere e distruggere la possibilità per il centro-sinistra di essere competitivo. Ma sempre su Repubblica, visto Folli, tanto per dare il quadro della situazione che a me non pare tale, ma lo vedremo perché tanto la direzione del PD ci sarà a breve, c'è il retroscena di Tommaso Ciriaco che dice ora Renzi cambia strategia, uniti con MDP si può vincere ma il leader è già sotto assedio, il retroscena, la linea, esito previsto, i sondaggi nazionali ci premiano, senza saperlo ho detto la stessa cosa, pronte a primarie con grasso, cresce il fronte di chi chiede il passo indietro e tra l'altro dice Ciriaco, molti prevedono un intervento dei padri nobili del PD, chissà chi saranno e i ministri antirenziani da Andrea Orlando e Dario Franceschini sono pronti a chiedere un atto di generosità al leader, tradotto un passo indietro per permettere alla coalizione di centro-sinistra di decollare per davvero. Ai bersaniani l'idea non dispiace, non possono certo fare salti di gioia per la performance di Fava, ma si accontentano del capitombolo del PD, pensa un po' come siamo messi, per costruire una coalizione, la linea di Roberto Speranza c'è bisogno di discontinuità nei programmi e questa discontinuità porta naturalmente con sé anche la discontinuità nella leadership e della coalizione che non può certo essere affidata a Renzi, ecco la possiamo affidare a Speranza oppure a Fava, a Bersani che diciamo Bersani già ci ha dato dimostrazione di qual è la forza del trascinamento della propria leadership, ecco forse diciamo che da oggi in poi se invece di continuare a sparare sul Renzi e sul PD si ragionasse sul fatto che se il centro-sinistra vuole essere competitivo forse qualche passetto in avanti bisogna farlo, sarebbe utile alla causa, ma c'è anche il Corriere della Sera ovviamente con un altro commentatore di primo piano che è Massimo Franco, sconfitte e segnali eloquenti, comincia a pagina in prima pagina e poi prosegue a pagina 6 e Franco che tra l'altro conclude questo suo editoriale dicendo lo scontro che si aprirà sulla leadership con un Matteo Renzi logorato ma blindato dai numeri congressuali difficilmente contribuirà a risollevare il PD, i critici del segretario Demma avranno un ulteriore motivo per chiedergli di cambiare atteggiamento e di cercare alleati a sinistra, in teoria una disponibilità esiste ma le prime reazioni Renziane e dei compagni separati di MDP promettono una guerra interminabile. Rimangono i due candidati alla vittoria, centrodestra e 5 Stelle, il primo costretto a essere unito nonostante la competizione tra Fratelli d'Italia e Lega e capace comunque di rovesciare un pronostico che dava per facile la scontata vittoria grillina e il Movimento 5 Stelle, toccato poco o niente dalla prova poco esaltante delle sue sindache a Roma e Torino e gonfio di ambizioni per il governo nazionale nonostante le contraddizioni, da oggi la sinistra dovrà cercare di deviare una traiettoria che la esclude nella competizione tra centrodestra e Grillo e dimostrare che è stato davvero un voto insurare ma sarebbe una sottovalutazione pericolosa, questo sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere anche la stampa, mi dicono che la seconda proiezione che viene data in televisione dovrebbe vedere Musumesici al 35, Cancelleri al 34 e Micari al 20, qui non parliamo di exit poll ma parliamo di spoglio di dati reali, vedremo cosa accadrà poi man mano. Dicevo anche sul Corriere della Sera, segnalavo il… ve la segnalo soltanto nel titolo perché mi… Gotor, per Matteo è stato come il 4 dicembre, molto difficile allearsi ora e tra le altre cose l'intervistatrice che è Alessandra Raichi chiede a Gotor e quindi per le prossime politiche state pensando ad un'alleanza con il PD per non consegnare il paese alla destra? risposta di Gotor, adesso così com'è non riesco proprio a vederla un'alleanza con il PD, ci sono divergenze sostanziali che non sono maturate in questi giorni o in questi mesi ma in anni, per un'alleanza col PD serve una svolta radicale nei contenuti, fisco, investimenti, scuola, lavoro che non vedo certo con il PD di Renzi, la cifra dell'arroganza della sua corte è evidente. Ecco, detto da Gotor c'è da sorridere, però andiamo avanti noi con la rassegna stampa, dicevo anche la stampa ovviamente si occupa della questione e anche sulla stampa c'è un commentatore di primo piano che è Marcello Sorgi, l'urna premia Berlusconi antipopulista è il titolo del suo editoriale, per quanto affidata soltanto agli exit poll, lo spoglio delle schede comincia stamane, la vittoria di Musumeci e del centrodestra nelle regionali siciliane rappresenta una novità niente affatto trascurabile, specie in vista delle elezioni politiche di primavera, è un errore tentare di minimizzarla come ha fatto Matteo Renzi fin dalla vigilia, riducendo il voto siciliano a consultazione locale e come altri faranno oggi, annotando che il nuovo governatore probabilmente non avrà la maggioranza in assemblea regionale e dovrà negoziare volta per volta l'approvazione dei provvedimenti, la verità è che dopo la seconda traversata nel deserto, il vincitore di questa tornata è Silvio Berlusconi, ridisceso in campo per riunire la coalizione vincitrice con la bandiera del antipopulismo e prosegue a pagina 31, sorgi, dice tra l'altro per Renzi il PD non sarà facile di mettere insieme i cocci della frammentata coalizione di centrosinistra più che la dura sconfitta con il fatto di non essere riusciti ad entrare in gioco, tutti gli errori elencati prima del voto, scelta sbagliata del candidato, rottura a sinistra senza marcata del leader della campagna elettorale, come a voler prendere le distanze da una sfida che non sentiva sua, alla fine hanno prodotto un risultato che peggiore non poteva essere e porterà a destra a riaprire la discussione interna al partito, sebbene l'affermazione di Fava non spingerà di sicuro Berzani, D'Alema e gli attriversi della sinistra a cercare a qualsiasi costo un'intesa preelettorale con gli ex compagni e amici del Nazareno, Grillo, Di Maio e il Movimento 5 Stelle escono battuti, ma anche rafforzati dal voto siciliano, la Sicilia era per il Movimento la grande occasione di segnare un altro passo in crescendo dopo la conquista della capitale di Torino, il secondo posto in classifica chiude invece la prospettiva di giocare alla grande la partita nazionale, la nuova legge elettorale penalizzerà i candidati del Monte 5 Stelle che rifiuta qualsiasi alleanza, ma non quella di restare il primo partito e la maggior forza di opposizione e anzi sistema destinata a seppellire definitivamente il bipolarismo in Italia. Così Marcello Sorgi, sempre sulla stampa abbiamo a pagina 4 un retroscena di Carlo Bertini che dà quella che dovrebbe essere la posizione di Renzi e che dice il titolo è Renzi prova a rompere l'assedio, se vogliono le primarie ci sto, il segretario, ma se tentano di sfiduciarmi in direzione, auguri, dice tra l'altro Bertini il giorno della disfatta siciliana Matteo Renzi lo trascorre nella sua Firenze senza dire nulla, consolandosi con un sondaggio nazionale di MG che vedrebbe il PD al 26 e mezzo malgrado lo disastroso 8-12 previsto in Sicilia, lo spogliere inviato oggi consente di mettersi al riparo per ora dagli assalti, che il leader PD ha messo in conto già preparata la sventagliata di colpi di chi vorrà mettere sul podio un altro candidato premier per il centro-sinistra, saranno in molti a dire che si potrebbe far correre gentiloni che serve un federatore con una personalità esclusiva, inclusiva e non divisiva per aumentare le chance di costruire un'alleanza larga, ma il segretario PD assicurano i suoi resisterà all'assedio ben sapendo che se per caso Bersani dovesse far da sponda ai capi correnti e agli ex big del suo partito sarà difficile difendere la breccia. Così tra l'altro Carlo Bertini, bene abbiamo ovviamente anche Travaglio che non può mancare sul fatto quotidiano che ha un'impostazione particolare nella quale sostanzialmente lui vede da una parte il buono le procure e dall'altra il cattivo la politica. In un editoriale che viene titolato Due Sicilie e Due Italie tra l'altro dice l'alleanza PD a P è tutt'altro che innaturale, un centro indefinito, scialbo, sciapo e insignificante se non per la sete di potere, ma non ha nulla da dire nessuna delle due Sicilie né delle due Italie. Da una parte c'è il paese della peggiore continuità, del voto di scambio, delle clientele, delle corruttele, dei trasformismi, dei familismi, dei soldi pubblici a pioggia, delle grandi opere inutili se non per i ladri e per le mafie, corre sempre sul carro del vincitore e alle pallide imitazioni preferisce sempre l'originale, infatti il Caimano lo conosce benissimo ed è sceso a Palermo a lanciare i suoi messaggi agli amici degli amici. Attenti di Draggrillo ci sono Davigo e di Matteo, dall'altra parte c'è il paese del voto di opinione, della voglia di cambiare, della legalità che dinanzi ai nomi di Davigo di Di Matteo si inchina a riconoscente anziché terrorizzarsi, infatti ha salutato da un pezzo il partito di Renzi per affidarsi con tutti i rischi e le incognite del caso al Movimento 5 Stelle e a una sinistra ancora in mezzo al guado. Questo è travaglio sul fatto quotidiano e d'altra parte è travaglio. Il giornale, abbiamo citato il titolo di prima pagina che titola Renzi KO Silvio C'è, tra l'altro scrive Sallusti, è dura stamattina sapremo se saranno confermati gli exit poll che danno il centrodestra a conquistare la regione Sicilia davanti ai 5 Stelle di Beppe Grillo, ma se questo risultato rispecchia l'umore nazionale significa che per vincere le prossime elezioni politiche nel centrodestra non possono essere ammessi distrazioni o capricci. Certo, a pensare come era malconcia la coalizione guidata da Silvio Berlusconi soltanto pochi mesi fa, possiamo parlare di un miracolo che lo porta a sfiorare la fatidica soglia del 40%, ritenuta magica in chiave di governo nazionale. E prosegue Sallusti, ma poi ovviamente è lungo e chi vuole se lo va a leggere, se la Sicilia c'è e se ci saranno come appare molto probabile Lombardia e Veneto, il centrodestra può davvero sperare di arrivare unito al governo del paese senza bisogno di ricorrere al piano B, cioè un accordo con Renzi o con il ruotino di scorta al Fano, ma attenzione come capita nei migliori famiglie, l'imprevisto può arrivare solo dentro le mura domestiche. Lo sappiamo bene e forse questa è una considerazione che probabilmente bisognerebbe allargare anche a centrosinistra per capire che se noi vogliamo consegnare il paese alla destra al Movimento 5 Stelle, l'esperimento siciliano mi pare che dimostri quanto possiamo essere bravi e capaci. Sul messaggero, e chiudiamo poi su Ostia, sul messaggero in prima pagina c'è l'editoriale di Alessandro Campi che poi prosegue a pagina 16 e tra l'altro si conclude dicendo di tutto questo bisognerebbe chiedersi quanto su questo voto abbiano pesato i fattori locali, ad esempio il giudizio pesantemente negativo degli elettori siciliani sui cinque anni di governatore di Crocetta. Più in generale non poco deve aver contato nel tenere lontano dalle urne più della metà degli eventi diritti il trasformismo dilagante che ha caratterizzato queste elezioni, nel list di musumeci correvano vecchi sostenitori di Crocetta. A fura di parlare del laboratorio politologico siciliano ci si è probabilmente dimenticati dei problemi reali degli abitanti dell'isola, dell'altissima disoccupazione giovanile allo stato disastroso del bilancio regionale che forse sono stati la spiegazione vera del voto di ieri, il che significa che il voto politico di primavera del 2018 sarà un'altra storia, ancora tutta da giocare. Ecco, consentitevi di dire che io la penso molto come campi, ovviamente il voto siciliano è importante, la sconfitta ce l'abbiamo detto tutto, ma il tema di una specificità della Sicilia che peraltro c'è sempre stata nella storia, dove peraltro la destra e il centro-destra sono sempre stati prevalenti e forti nell'isola in Sicilia, ci dovrebbe far guardare e far riflettere probabilmente con un po' più di equilibrio in tutte le cose che abbiamo letto. Ovviamente c'è Ostia, anche qui me la cavo facilmente, tutti i giornali mettono in rilievo il calo anche qui dei votanti che è stato veramente grande, 20 punti rispetto alle comunali scorse che pure hanno state non particolarmente partecipate, ha votato il 36% degli aventi diritto, ma detto questo c'è stato un risultato che vedrà probabilmente un ballottaggio tra il centro-destra e la candidata grillina, ma il fatto rilevante, politicamente rilevante è che come vi dicevo prima la cura Raggi ha avuto il suo primo effetto, nel senso che il Movimento 5 Stelle perde il 14% rispetto alle scorse comunali, il Partito Democratico guadagna l'1% credo intorno all'1% rispetto alle comunali, è il secondo partito della coalizione e soprattutto rispetto ad alcuni sondaggi che erano girati a settembre che davano al Partito Democratico al 7,5%, si dovrebbe attestare intorno al 14%, quindi sicuramente con un risultato positivo, ovviamente è una sconfitta, ovviamente a Ostia venivamo da una situazione molto delicata e complicata, il Presidente del Municipio del PD era stato arrestato, ma è stata messa in campo dopo il commissariamento, dopo la nuova costruzione di una classe dirigente a Roma guidata dal Secretario Casu e dal Vice Secretario Pelonzi, una grande iniziativa di rinnovamento, di ricambio anche di classe dirigente e credo che questo primo risultato che ovviamente ci penalizza dal punto di vista politico rispetto al Municipio, ma è un risultato importante per rilanciare il Partito a Roma e magari speriamo che questo possa essere di monito anche per il resto d'Italia. Segnalo semplicemente a proposito del fatto rilevante di Ostia, che è stata indubbiamente la performance di rilievo di Casa Pound, i neofascisti di Casa Pound, che sulla Repubblica si mette in evidenza, scusate lo devo trovare perché, chissà se lo vero o mai, comunque si mette in evidenza che si sono queste rappresentanti, famiglie del clan Spada che bassicavano a uno dei seggi di Ostia e che deve far riflettere a proposito delle connessioni che ci sono tra la politica e la comunità organizzata, a prescindere da quello che è accaduto due anni fa. Su Criva della Sera, per quanto riguarda Ostia, chiudiamo il capitolo, il titolo è a pagina 9, a Ostia la Florenza crolla di 20 punti, sfida al ballottaggio 5 stelle centrodestra nel municipio sciolto per mafia, testa a testa tra due donne, poi il PD, Casa Pound e la quarta forza. Poi c'è un'intervista al commissario uscente che dice i tentacoli sono tagliati, ora la politica dica no ai clan. Questa sarebbe una buona idea. A questo punto vi do un'ultima notizia che sta soltanto sul giornale a pagina 2, un articolo di Laura Cesaretti che dice che cresce il partito del rinvio, elezioni politiche a maggio, Quirinale e governo orientati a far votare poco prima dell'estate e poi dice Renzi ammette una sconfitta indiscutibile, questo è un argomento di cui si parla da un po' di giorni, però detto questo vorrei dirvi molto chiaramente che sia marzo, sia aprile, sia maggio a votare bisognerà andarci. Quello che è accaduto in Sicilia dimostra chiaramente che la possibilità per il centro-sinistra di essere in corsa per vincere le elezioni è completamente aperta, ce lo dice anche il sondaggio di cui abbiamo parlato prima che è dal Partito Democratico al 26,5%. In Sicilia si può giocare sui numeri relativi alle elezioni regionali, politiche, noi l'abbiamo detto, è certamente una sconfitta, era una sconfitta annunciata ed è una sconfitta determinata innanzitutto da chi dopo aver fatto un patto per candidare Micari ha deciso di sfilarsi con l'obiettivo di massacrare il Partito Democratico e la leadership di Renzi. Adesso questo risultato è stato ottenuto nel senso che da una parte non si è andato in nessuna parte e dall'altra si è ottenuto che sicuramente la performance di Micari non si è resa competitiva con le altre. Basta questo per far cambiare passo o dobbiamo seguire la linea di Gotor o di speranza, è quella che leggiamo oggi sui giornali. Vogliamo davvero consegnare il Paese a centro-destra al Movimento 5 Stelle? Il Partito Democratico, lo ha detto chiaramente, è disponibile a creare le condizioni perché ci sia un'alleanza di centro-sinistra. Ovviamente per fare un'alleanza che ci sia in due. Se da una parte l'obiettivo è semplicemente quello di distruggere una leadership e la forza di un partito è difficile che questo si possa concretizzare, però deve essere chiaro che si assuma la responsabilità e quindi penso che a partire anche dalla discussione interna che avremo all'interno della direzione, il mandato che noi dovremmo avere nei confronti soprattutto degli elettori e non del ceto politico è quello di spiegare alle tante persone che magari ricorrono alla stenzione perché vedono confusione all'interno del centro-sinistra, che c'è una volontà evidente di voler rimettere il centro-sinistra al centro del dibattito politico in maniera positiva e non per i propri litigi e metterlo in condizione di diventare effettivamente una possibile speranza e anche una realizzazione di successo alle prossime elezioni. Guardate la politica va veloce, in quattro mesi può accadere di tutto e in questi quattro mesi non solo si può, ma si deve costruire un'opzione vincente che metta in evidenza le divisioni che esistono all'interno del centro-destra, che sono del tutto evidenti, l'abbiamo visto anche in Sicilia seppur si mettono insieme e anche la residualità del Movimento 5 Stelle nel momento in cui poi viene messo a governare e dimostrare cosa è capace di fare, vedi Roma e vedi il risultato di Ostia. Questa è la condizione, lo spazio e il tempo davanti a noi c'è, ora bisognerebbe che lo si occupasse in positivo e non con operazioni come quelle siciliane che, ripeto, non hanno portato nessun risultato da una parte e dall'altra hanno portato a una sconfitta del centro-sinistra che probabilmente avrebbe potuto avere sicuramente dimensioni diverse o magari avrebbe potuto essere utilizzabile nello scontro che c'è stato in queste elezioni. Io mi auguro davvero che su questo riflettano tutti. Passiamo agli altri temi rapidamente perché abbiamo praticamente finito il tempo. Per quanto riguarda le pensioni posso soltanto segnalare una intervista al Fornero, alla pagina 18 di Repubblica, che è chiaramente contraria. Pensioni, se non si alza le tasse, ingannano i cittadini, la politica non si avigliacca, l'intervista a Fornero impedire l'aumento danneggia ai giovani, sì alle deroghe, questa è la posizione di chi ha fatto la legge. Sulle pensioni, sullo stesso tema, segnalo sul giornale a pagina 7, pensioni a 67 anni dal 2019, pressing per salvare le madri, oggi il primo tavolo per decidere chi non rientrerà nell'automatismo. Sindacati, fuori le donne con figli, questa è la trattativa che si è aperta con i sindacati. Per quanto riguarda la manovra, rapidamente, poi vedremo le cose quando ci sarà il dibattito al Senato, saranno più chiare, ma intanto il Sole 24 ore in prima pagina caccia al bonus migliore per il lavoro dei giovani. L'apprendistato costa meno, ma fatica a decollare. Con la legge di bilancio si ampia il mix di strumenti per favorire le nuove assunzioni. C'è un tema intercettazioni? Sì, c'è un tema intercettazioni, l'ha approvato del Consiglio dei Ministri, ci sono posizioni a confronto sulla Repubblica, pagina 9, l'unica che gli dà così tanto spazio, c'è Nello Rossi, avvocato generale in Cassazione che conferma l'allarme, chi pubblica i nastri custoditi in archivio viola il segreto e l'intervistato da Liliana Milella, sì, con questo decreto i cronisti rischiano di più, è sempre Liliana Milella, intervista invece Walter Verini, capogruppo giustizia in commissione del Partito Democratico, non escludo modifiche, ma il bavaglio non c'è, il deputato del PD difende il testo Orlando, tutela in modo equilibrato la privacy, se la Federazione Nazionale della Stampa italiana fa proposte, le discuteremo, questo sulle intercettazioni. Segnalo lo speed che, diciamo, molti si domanderanno che cos'è, ce lo dice anche questo Repubblica a pagina 19, che è l'identità digitale, a pagina 19 di Repubblica, un'identità digitale per l'80% degli italiani, così in 5 anni vinceremo la scommessa. A parlare Diego Piacentini, commissario del governo, avanti con speed, pagamenti e anagrafe. Ancora passiamo al tema della strage degli immigrati, segnalo ovviamente su tutti i giornali il titolo, invece però, come vi dicevo, volevo segnalare sul tema immigrati sulla stampa, pagina 13, un'intera pagina, un miliardo di rifiugiati climatici entro il 2050, l'allarme del G7, salute di Milano, i cambiamenti affliggono soprattutto i paesi poveri. Questo è un interessante articolo sulla stampa. Corriere della Sera, ma ovviamente anche questo sta su tutti i giornali, a pagina 11, Paradise Paper, gli affari tra USA e Russia, svelati i conti segreti di politici e star, spiccano il ministro USA-Ross e i legami con il finanziere del Crellino. Numerosi nomi VIP citati dalla Paradise Paper, con i più eclatanti, il ministro americano del commercio Ross, il magnate russo Yuri Milner, eccetera, eccetera, per chi è interessato lo trovate davvero su tutti i giornali, così come su tutti i giornali trovate, ma questo è veramente solo a titolo di cronaca, lo scandalo nelle Emirati, 11 principi e 38 ministri in arresto al Ritz, beati loro che sono arrestati in alberghi di superlusso, terremoti in Arabia Saudita, affermato anche l'uomo più ricco del paese che si scontrò con Trump. Puidemont, anche questo, lo possiamo vedere su tutti i giornali, ma visto che abbiamo il Corriere della Sera sotto mano adesso lo vediamo anche questo sul Corriere della Sera, Puidemont e i suoi si costituiscono giudici di Bruxelles, libertà condizionata, un giorno in procura per il leader catalano, gli indipendentisti, guidaci alle elezioni e anche con il tema, questa è quasi più satira che non cronaca politica, il tema Tulliani lo potete vedere sui quotidiani, adesso non vedo più su che pagina è, ma insomma Tulliani è stato arrestato per un paio di mesi a Dubai perché aveva segnalato una truppa che gli davano fastidio all'aeroporto e la polizia ha scoperto sulla base della sua segnalazione che Tulliani era ricercato e quindi se l'è ingabbiato. Questo è tutto per la segna stampa di questa mattina, ovviamente seguiteci sui nostri social, seguiteci con la edizione di Democratica e soprattutto seguiteci e dateci una mano perché questi saranno giorni indubbiamente difficili rispetto al contraccolpo della Sicilia, però non dimentichiamoci che il Partito Democratico è un partito fatto di tante donne e tanti uomini che hanno saputo sempre nei momenti più delicati dare una forte spinta a una classe dirigente che ha sicuramente bisogno di un'energia e un aiuto per affrontare mesi che non saranno semplicissimi ma che davanti a noi ci danno la possibilità di riprendere un ruolo politico che in questo momento alcuni giornali vorrebbero essere ridimensionato e che io invece sono convintissimo è nelle condizioni assolute di poter essere rilanciato, però certo questo dipende anche da molti di noi, da molti di voi che per esempio state a casa e di come potete aiutarci a contribuire per esempio a far conoscere quali sono i pensieri reali, le posizioni reali e le cose reali dentro il Partito Democratico e non necessariamente quelle che leggete sui giornali e che spesso e volentieri rappresentano davvero una realtà più virtuale che reale. Grazie a tutti e buon ascolto.